Perché ci ricorda Goran, ci ricorda l'epoca grandissima, grandiosa di tutti i cantautori. Io ho detto una battuta qualche anno fa, non ho capito come ho fatto ad accumulare così tanti anni in così poco tempo. Effettivamente sembra l'altro ieri, ma io cantavo cose del genere. Stasera l'aria è fresca, potrebbero venirmi nei pensieri, i dolci del vino che bevi, i più chiari delle tue risposte. Paola aveva un'amica, speranza sopra di lei, e i passi del suo amante non fanno molto rumore. Stasera l'aria è fresca, potrebbero venirmi nei pensieri, i più chiari delle tue risposte. Non pensava alla rivoluzione, non aveva molti problemi, e la sua casa era grande, per una persona suggera. Stasera l'aria è fresca, potrebbero venirmi nei pensieri, i dolci del vino che bevi, i più chiari delle tue risposte. Stasera l'aria è fresca, potrebbero veniremi nei pensieri, i più chiari delle tue risposte.